Con Hotmix Pro realizzeremo ora una riduzione di aceto balsamico. Mettiamo nel bicchiere in acciaio graduato di Hotmix Pro dell'aceto balsamico e lo sciroppo di glucosio. Quindi impostiamo prima la temperatura di arrivo a 113 gradi e poi la velocità delle lame a 1F, affidandoci ancora una volta alla tecnologia Weight Temperature. Una volta che Hotmix Pro avrà raggiunto i 113 gradi centigradi, la ricetta sarà terminata. Una volta raffreddato, il prodotto avrà una densità ottimale. Grazie a tutti.